Ringrazio per la presentazione, ringrazio anche gli organizzatori per l'opportunità. Io invece mi concentrerò solo su Atlante Occidentale e con questo intervento voglio condividere dati e interpretazioni iniziali sull'uso dei tempi verbali in Atlante Occidentale. L'obiettivo della mia ricerca è collegare i dati ottenuti a due aspetti della meccanica quantistica. Il principio di indeterminazione è l'effetto tunnel e è un espediente narratologico, la misa nabini. I tempi verbali in Atlante Occidentale sono già stati oggetto di indagini che vedremo verso la fine dell'intervento. La mia ricerca però parte da una constatazione che è anche una limitazione del campo di indagine, ovvero che questo uso marcato dei tempi verbali è un fenomeno delle sole porzioni testuali diegetiche. Infatti i tempi verbali e le porzioni testuali mimetiche, ovvero gli scambi dialogici, non presentano marcatezza. Una conferma irravvisabile proprio nello stato dell'arte. Chi ha affrontato direttamente o marginalmente l'uso dei tempi verbali l'ha riportato ricorrendo esempi verbali e le sole porzioni testuali diegetiche. E qui farò una, diciamo andrò velocemente. Questi sono gli esempi di Antonello 2005, dove possiamo notare che i corsivi aggiunti riguardano solo i tempi verbali diegetici. Questo è l'esempio in Radaelli 2016, e anche qui il focus è il medesimo. Un'altra conferma è in Baratta 2021, e per concludere aggiungo questo esempio che è emerso come uno dei più rappresentativi e che vedremo tra poco in analisi. Di conseguenza ho impiegato un tipo di metodologia che avevo adottato in lavori precedenti, cioè condurre delle analisi differenziate del testo sull'asse diegetico mimetico con fasi di distant e di close reading. Analisi del testo integrale, analisi del testo diegetico e analisi del testo mimetico. Da subito, dal 1985, la scrittura del giudice appare, come cito, una scrittura rigorosamente costruita a tavolino. Volta, cito, a rendere dall'interno stesso delle sue strutture linguistiche l'entrata in crisi delle categorie spazio-temporali e introduce per questo un'articolazione dei tempi grammaticali che di continuo rimette in discussione i valori oggettivi e i loro rapporti. Viene rimesso in discussione anche il rapporto con chi legge, connotando il passato prossimo con probabilità e posto zero nei tempi commentativi per dire che, cito, non è una cosa accaduta, ma sta accadendo. Potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere. Pareggia così i due posti zero dei tempi narrativi con due posti zero dei tempi commentativi, dando, cito, a capire all'ascoltatore che deve applicare una certa dose di attenzione alla relazione fra tempo testuale e tempo reale. I dati, però, hanno anche condotto l'attenzione sull'assenza di alcuni tempi verbali che potrebbero e invece non ci sono. Come suggerito agli organizzatori del convegno, i tempi del verbo nei testi letterari sono una scelta essenziale. Una conseguenza logica è che scegliere consapevolmente qualcosa significa anche trascurare qualcos'altro consapevolmente. Se per straniare la narrazione è ricorso a un ordito tramato da 951 passati prossimi, 634 presenti semplici, 542 passati remoti, sono questi i tempi che principalmente andrebbero affrontati. Tralascio volutamente i 994 imperfetti, poiché da essi non deriva effetto straniante. Presente, passato prossimo e passato remoto, però non devo mettere in ombra il fatto che, per esempio, nel testo diegetico il futuro semplice è quasi del tutto inesistente. Il futuro composto lo è. Indagare l'ombra alla ricerca dei significati è un approccio che sembra essere incoraggiato allo stesso autore. Cercherò di metterlo in pratica alla fine dell'intervento. Intanto si può dire che queste scarsità e mancanze del futuro sembrano rilevanti se si tiene conto di due aspetti. I principali luoghi della narrazione sono proiettati verso il futuro, seppur in modi diversi. Berri è la casa di Epstein sul lago di Ginevra, assimilabile alla casa delle lettere e di cui lo scrittore più volte si ribadisce affittuario. È un luogo transitorio e d'attesa di un qualcosa che sarà. Il CERN, il luogo di lavoro ibrae, è la casa delle scienze, ma come dipinto da del giudice non esiste nel 1985. Il cuore non è l'SPS che aveva visitato l'anno prima, ma è l'EP che entrerà in funzione quattro anni dopo, nel 1989, Acceleratori di Particelle. Un secondo aspetto è che in diverse occasioni a narrazione sarebbe potuta passare al futuro, invece è stata al futuro nel passato. Questo è collegato con l'ombra, quindi ci torneremo alla fine. Intanto si può dire che non sembra casuale questa sostituzione dei tempi e dei futuri indicativi con un futuro subordinato al passato. Ma iniziamo con ordine. Questo è l'esempio di prima. Adesso è un marcato in verde scuro e passati remoti, in verde chiaro le porzioni testuali da essi determinati temporalmente, in grigio oscuro i passati prossimi, in grigio chiaro le inerenti porzioni testuali, in rosso i presenti, e ho lasciato in bianco le porzioni testuali non determinate temporalmente al passato. Adesso la regia, se mi manda il video. Comunque, se adesso ne notiamo la disposizione nel testo biogetico, qui in formato A3 e capovolto, vediamo che il passato si configura come una sfasatura, tra passato prossimo e passato remoto. Chi legge si trova davanti una dimensione di passato che oscilla fra questi due tempi, e fra narrativo e commentativo. Chi legge non trova degli ancoraggi che permettono di posizionare la narrazione in un punto spazio-temporale e in base a quel punto seguire o ricostruire l'evolversi della vicenda. Questi dati e la loro disposizione nel testo potrebbero dunque essere interpretati secondo il principio di indeterminazione avanzato da Heisenberg nel 1927. Il principio afferma che non è possibile definire la traiettoria di una particella, poiché non possiamo averne simultaneamente le due proprietà variabili che risultino correlate fra loro, posizione e velocità moltiplicata per la massa. Di conseguenza, la traiettoria esiste solo nel suo compimento. Non è osservabile nel divenire. Così anche la narrazione di Del Giudice non consente degli ancoraggi cognitivi, simultanei, precisi ai due tempi passati che risultano tra loro correlati. Chi legge non può determinare una posizione temporale della narrazione e non può osservare la traiettoria narrativa nel suo divenire. La traiettoria è stimabile solo attraverso delle porzioni testuali di compiuti. Così disposti, passato prossimo al passato remoto, si suggeriscono quali correlativi formali dello stesso principio di indeterminazione. Eh, questa l'avevo saltata, scusate. Guardando il presente indicativo, nel video abbiamo visto che attraversa questa linea oscillante del passato, riportando chi legge a un adesso. I dati dei presenti indicativi potrebbero essere dunque interpretati con l'effetto tunnel. L'effetto tunnel è un tipo di salto quantico attraverso barriere impenetrabili. Immaginiamo un elettrone intrappolato in una gabbia metallica con pareti in cui circola corrente con una tensione che non può essere contrastata dall'energia inferiore dell'elettrone. Per la fisica classica, l'elettrone verrà respinto all'infinito. L'equazione di Schrodinger invece indica una probabilità superiore a zero che l'elettrone oltrepassi le pareti. Infatti anche l'elettro e anche l'effetto tunnel dipende da leggi probabilistiche. L'equazione non indica da dove arrivi l'energia in più, solo la probabilità che l'elettrone sia dentro o fuori. Probabilità derivante dalla natura ondulatoria della materia e dal legame tra onde e probabilità stessa. Le occorrenze dei tempi passati indicano una maggiore probabilità che il tempo testuale sia al passato, eppure le occorrenze dei tempi dei presenti indicativi, benché inferiori, irrompono da questa linea del passato e aggiungono una probabilità superiore a zero che la narrazione sia al presente. Il presente indicativo si suggerisce quale correlativo formale dell'effetto tunnel, soprattutto poiché i picchi delle sue occorrenze ridimensionano la narrazione in due punti che non sembrano casuali. La parte centrale è la parte finale del testo. È già stato rilevato che la narrazione si chiude al capitolo 12 con una misa nabim. Come è noto, l'espressione introdotta da André Gide si riferisce a quell'esperiente narratologico che consiste nel reduplicare degli eventi o una sequenza esemplare di eventi e così condensare e rispecchiare il significato generale della storia. La fine del capitolo 12 ripropone infatti le sequenze principali della narrazione con gli occhi di Ira Epstein. Quello che mi sembra non sia stato ancora rilevato è che anche la parte centrale del testo è un'altra misa nabim, ma del libro stesso, del cartaceo che abbiamo tra le mani. Nel capitolo 5 infatti si narra il primo invito a cena di Pietro Brahe in casa di Epstein, il quale gli chiederà alla fine, chiederà a Brahe, alla scienza, che cosa vede quando cerca di osservare la realtà. Poi nel capitolo 6 seguirà il monologo di Epstein sul proprio modo di vedere quando osserva, il modo di vedere delle lettere. E in ultima analisi lo scrittore del giudice è un convivio, un simposio in cui lo scrittore le lettere invita in casa propria all'interno del libro la scienza per un confronto e raffronto tra quello che entrambi vedono quando osservano. Uso convivio anche perché fra i primi dieci verbi più impiegati nel testo diegetico figura sorridere, che ne indica l'aspetto piacevole. Per chiudere questa mia proposta di interpretazione vorrei toccare due ambiti fra loro collegati, alcune interpretazioni precedenti e l'importanza di quello che manca, che è stato messo in ombra. Tra le interpretazioni precedenti Domenico Starnone già nel 1985 parlava di passato remoto che arriva a diventare passato prossimo, poi presente e poi addirittura futuro. In Antonello 95 l'esamina ha per soggetto i microoggetti, in Antonello 2005 le particelle. In entrambi i casi i tempi verbali e il futuro anteriore sono usati come metafore. Zublena 2002 dopo aver esaminato lo stadio di Wimbledon, primo romanzo di Del Giudice, generalizza sostenendo che in tutta l'opera di Del Giudice e quindi anche in Atlante occidentale vi sia un uso frequente del futuro suppositivo. Baratta 2021 dopo aver citato D'Antonello 2005 specifica che in Atlante occidentale il futuro anteriore concorre a sostituire il passato remoto e in seguito aggettiva l'uso del futuro anteriore come massiccio. Se sul passato prossimo le analisi sono corrette credo sia evitabile tirare in ballo il futuro perché il futuro è il grande assente di questa narrazione è l'ombra. Invece secondo me invece secondo me se in una determinata dimensione mancano i dati penso di essere 22 sì se in una determinata dimensione mancano i dati può essere utile cercarli in dimensioni che suppliscono o compensano e qui passo al secondo punto e concludo. Come abbiamo visto scrittura e lingue del giudice illuminano alcuni tempi verbali così facendo creano ombra su altri il futuro ma la posizione in ombra non è la posizione in ombra non è vuota del giudice riserva quella posizione al futuro subordinato al passato il condizionale composto è lui il futuro della narrazione spesso è collegato alla percezione e al ricordo come negli esempi che stiamo osservando così facendo Daniele del giudice sembra concretizzare il pensiero di Henri Berson quando affronta il problema psicologico e il déjà vu il ricordo del presente che avviene in un tempo sfasato laddove il presente viene subito reduplicato in percezione e in ricordo Berson afferma che il ricordo non viene dopo la percezione ma coesista la percezione poiché percezione e ricordo nascono nello stesso momento infatti Deleuze coglie questo aspetto dicendo che la durata Bersoniana è definita più dalla coesistenza che dalla successione il tempo appare così il tema dominante in Atlante occidentale un tempo che supera gli oggetti la luce il vedere come rilevato da Tissiano Scarpa nell'introduzione ai racconti del giudice e come ho cercato di dimostrare in questa sede grazie a tutti Grazie a tutti.